Alla fine direi di sì perché abbiamo fatto molto di più della San Bonifacese, siamo stati un pizzico sfortunati e penalizzati anche dal campo che una squadra come la nostra oggi è stata penalizzante perché abbiamo sbagliato tanti passaggi e un po' troppo in precisione. Sì, c'è stato un errore grave nostro, abbiamo sbagliato completamente, una risalita e su un errore nostro la San Bonifacese si è trovata in vantaggio senza aver tirato in porta in sostanza. E poi grande reazione, penso che il risultato ci va stretto, tenendo conto però che venivamo da due traspette di fila, Treviso è qui, abbiamo fatto quattro punti. Nel complesso siamo soddisfatti, abbiamo mosso ancora la classifica, manteniamo le distanze, abbiamo dato un punto sul matto che ha perso oggi e dunque è una buona domenica anche oggi. Forse c'è un pizzico di rammarico ma il calcio è fatto anche di questo, il risultato è questo, va accettato. Nel complesso siamo soddisfatti del risultato, la prestazione è un po' così così, visto il campo non era aggiornata per noi oggi. Sì, Gaeta ha fatto molto bene, devo dire che ha fatto molto bene anche dalla Costa, un giocatore che abbiamo appena preso, tra l'altro molto bene, con molta volontà, molta qualità di gioco. È stato un ottimo innesto, una buona qualità di piede. Mi fa piacere perché vuol dire che anche quelli che stanno fuori si fanno trovati pronti e abbiamo qualche armi in più adesso. Abbiamo visto un po' come l'ha andata, una squadra che mette in campo cuore, carattere, una buonissima organizzazione a livello tattico. È chiaro che è una squadra che vive sulle giocate di due o tre singoli, nel complesso è una squadra che sta soffrendo e la classifica lo dimostra. Però è una squadra viva che ne ho viste di peggiori. Va bene? Grazie, Rieders.